In questo video vedremo come eseguire un backup automatico del nostro file quando andremo ad eseguire un salvataggio di se stesso. Vedremo anche un'altra tecnica per andare a proteggere il nostro file completamente o parzialmente aggiungendo una password di accesso al file, quindi potremo mettere una password che ci permette di accedere al file in modifica e in lettura oppure mettere una password che ci permette di accedere al file in lettura se non conosciamo la password e se invece conosciamo la password possiamo accedere anche in scrittura. Vediamo come applicare queste tre opzioni che si trovano tutte nello stesso posto. Questo qui è il mio file e si chiama protezione file. Adesso vedete che qui esiste solo questo file. Se vado ad eseguire un salvataggio del mio file, lui va a salva il file, vediamo che qui lo aggiorna 17-18 ma non crea nessun backup. Per creare il backup basterà andare su file, menu file, salva con nome, andiamo su sfoglia e qui sotto andiamo su strumenti, quello che vedete qua e facciamo opzioni generali. Qui troviamo tutte le nostre opzioni. Andiamo a impostare prima il backup. Quindi per creare il backup automatico quando facciamo un salvataggio schiacciamo su crea sempre una capa di backup. Ok, perfetto. Se premiamo ok e andiamo a salvare il nostro file, noi andiamo a sovrascrivere ovviamente il file che abbiamo qui presente, lo salvo. Perfetto. Lui già in automatico è andato a creare questo backup XLK. Se vogliamo vedere l'estensione di file altrimenti poi facciamo fatica a capire, andiamo su visualizza, mostra e qui lì diciamo estensioni nomi file. Questo è con Windows 11. Windows 10 è similare. Quindi se dobbiamo ripristinare questo file, che cosa possiamo fare? Possiamo prendere questo, ce lo possiamo copiare così si teniamo sopra il backup, gli diamo il nome che vogliamo, ad esempio facciamo questo, copia, ok. E qui gli cambio semplicemente l'estensione XLSX, ok. Facendo così io sono andato a ripristinare il file. Se adesso vado ad aprire questa copia, mettiamo un attimino, ecco che si è aperto, vedete che è esattamente la copia che aveva sotto. Questo perché può essere utile il backup, magari avete dei processi automatici che vanno ad aggiornare il file e quindi è utile avere un backup automatico quando andate a salvare il file che poi magari cresce successivamente ma avete sempre una copia del vostro file perché Excel non è sempre stabile, no? Quindi può succedere che il file proprio si corrompa completamente mentre è lavorato. Quindi applicando questa opzione abbiamo sempre una copia di backup se non la facciamo manualmente. Quindi questo è un sistema per farlo in automatico. Ora vediamo come applicare una protezione di apertura. Quindi andiamo nel menu file, andiamo sempre su serva con nome, sfoglie e qui torniamo sul menu strumenti, opzioni generali. Togliamo l'opzione del backup e concentriamoci solo su questa cosa. Allora se facciamo su lettura, ad esempio adesso io gli metto un, due, tre, quattro e faccio ok, mi dice di ripeterla per essere sicuri che ho inserito la password giusta. Perfetto, se adesso vado a salvare, che cosa succede? Se io vado ad aprire il file, lui mi chiederà una password, quindi se ho messo la lettura, se io voglio andare a leggere il file, mi serve per forza avere la password, altrimenti io non posso né leggere né scrivere nel file. Se non la conosco, ovviamente lui mi dà errore, non mi lascia accedere. Quindi per entrare sul file adesso devo conoscere la password e ecco che entro e posso fare tutto quello che voglio, sia in lettura che in scrittura. Se invece scegliamo l'altra opzione, abbiamo una funzionalità molto interessante, quindi andiamo a toglierla da qui, per eliminarla basta toglierla da dove l'abbiamo inserita e la mettiamo sulla scrittura, un, due, tre, quattro. Facciamo ok, ripetiamo la password e andiamo a salvare. Perfetto, se adesso io apro il file, lui mi proporrà una cosa diversa, vedete che la finestra è cambiata, mi dà il solo lettura, quindi se io conosco la password e inserisco, premo ok e entro in scrittura lettura nel file. Se io non la conosco, premo semplicemente sulla lettura e qui se osservate lui dice file aperto in sola lettura, significa che tutto quello che faccio, ok vado qui, modifico, eccetera, se premo salva, lui mi dice no guarda che il file è in sola lettura, non puoi andare a salvarlo, ok. Ovviamente questa tecnica si può raggirare facendo sfoglia, salva con nome, prendo il file e lo salvo, andrei a sovrascriverlo, però così facendo è proprio voluta la cosa, perché vado proprio a coprire un'azione che è più complicata del semplice salva e vado a sovrascrivere un file, quindi se poi qualcuno vi sta passando un file di questo tipo e voi lo sovrascrivete, ovviamente verrà a lamentarsi da voi, perché il file non dovrebbe mai potersi sovrascrivere. Questa è una piccola protezione che si può inserire appunto in Excel, quindi se noi adesso chitiamo, facciamo salva, vedete che non me lo fa, mi fa andare sul salva con nome, quindi potrei salvarlo con un altro nome, ok. Però il master rimane sempre, adesso entro con la password, salva guardato. Questa tecnica qui è utile se dovete passare file a qualcuno, no? Quindi voi vi gestite il master, poi lo aggiornate tutto quanto, salvate, uscite, quando entra magari gli altri utenti del vostro gruppo che devo semplicemente visualizzare, entrano in sola lettura così non possono andare a danneggiare il file, perché poi premere salva è un attimo, oppure si ha il salvataggio automatico in Excel e quindi anche senza volerlo magari si fa modificare il file master e si crea un danno, invece fare il salva con nome è proprio un'azione che è andata a compiere di proposed, è molto più difficile andare a fare questo tipo di operazione. Ok, direi che anche con questa lezione è tutto, se il video è stato di vostro regolamento lasciate un bel pollice in su, così mi aiuterete a posizionare meglio il video all'interno di YouTube, se invece vorrete sostenermi in modo incisivo magari pensate a stipulare un abbonamento col tasto abbonati che c'è sotto al video, così potrete accedere anche a tutti i contenuti riservati agli abbonati che sono veramente molto interessanti. Vi ringrazio molto per avermi seguito fino a qui, ci vediamo al prossimo video, a presto, ciao!